L'ora solare, l'ora solare vi chiede oggi, bentrovati innanzitutto, vi chiede particolare attenzione e uno sguardo rivolto indietro ad una data, il 31 ottobre del 2002, sono le 11 e mezza, le 11 e 32, è una scossa, una scossa di magnitudo 5.8, in veste il Molise e parte della Puglia. Il paese più colpito è San Giuliano di Puglia e soltanto questo nome vi ricorda già di cosa stiamo parlando. 1200 abitanti, un solo crollo, la scuola, la scuola, Francesco Iovine. Muoiono 27 bambini, viene cancellata un'intera generazione, 27 bambini e la loro maestra. Noi ritorniamo con le immagini del nostro Matteo Forino, curate dal nostro Matteo Forino e poi vi portiamo un raggio di luce, portiamo un raggio di luce nelle vostre case. Perché gli angeli di San Giuliano di Puglia non li abbiamo dimenticati e non li dimenticheremo mai. Ma c'è la dottoressa Veronica D'Ascenso, neolaureata, che aveva sette anni ed era in quella scuola quel giorno ed è una delle bambine sopravvissute. Prima di tutto grazie, con un bacio. Grazie di essere qui, grazie di ripetere ancora una volta questa storia, di condividerla con noi. Quel giorno, posso chiederglielo ancora una volta? Sì. Allora, la giornata è iniziata normale come tutte le altre. Quel giorno noi dovevamo festeggiare la festa di Halloween. La prima ora abbiamo avuto la Mestra Carmela, che è l'insegnante che poi è deceduta. Successivamente mancava la seconda insegnante e quindi nella mia classe siamo stati smistati nelle altre classi. La mia classe praticamente è stata divisa nelle successive classi e anche questo comportava, diciamo, la fortuna di salvarsi oppure no, perché ovviamente in base alla posizione, in base alla classe, questo ha determinato diciamo, quello che è successo dopo. Io mi trovavo in prima elementare, la classe dove praticamente sono morti tutti i bambini, infatti a San Giuliano manca proprio l'annata del 96 e la mia fortuna è stata proprio quella che mi hanno posizionato alla fine dell'aula, in fondo, su un tavolo nero che di solito non si trova all'interno di una scuola. Non era un banco, era un tavolo rigido, più alto rispetto agli altri banchetti, infatti io ricordo che facevo fatica anche ad appoggiarmi perché era talmente alto, io ero piccolina, avevo sette anni e a un certo punto alle 11.32 sentiamo una fortissima scossa. È stato tutto così veloce, tutto così immediato da non darmi nemmeno il tempo di capire quello che stava succedendo. Mi giro alla mia sinistra e vedo le finestre che si rompono una dopo l'altra, mi giro di fronte, il mio unico punto di riferimento in quel momento era la mia insegnante e la vedo con uno sguardo assolutamente spaventato e si porge le mani vicino al viso, come ha fatto proprio un... aveva proprio uno sguardo spaventato e non ha fatto in tempo di dirci mettetevi sotto il banco, io mi giro alle mie spalle e vedo parte della parete che mi viene addosso, dopodiché perdo i sensi e mi risveglio dopo diverse... non glielo so dire quanto tempo, mi risveglio sotto il banco, questo tavolo che praticamente in quel momento mi stava salvando, io non ho fatto in tempo di infilarmi sotto il tavolo ma mi sono risvegliata con la testa ricoperta da questo tavolo e tutto il resto del mio corpo era ricoperto di macerie, avevo praticamente avevo subito un trauma cranico, avevo tantissimi feriti alla bocca, quindi sono rimasta sotto le macerie col corpo bloccato per lunghissime otto ore, facevo difficoltà a respirare proprio perché avevo la polvere, i detreti in bocca e sentivo proprio il sangue che mi scendeva in gola e in più vi erano perdite di gas, sentivo la stanchezza e capivo che quello che mi stava succedendo era qualcosa di assolutamente brutto, però non avevo capito la gravità, non avevo capito che forse lì potevo morire, avevo la speranza che qualcuno prima o poi veniva a salvarmi e quindi insieme alla mia amichetta Rachele la mia fortuna è stata proprio quella di ritrovarmi accanto, era tutto buio quindi io non vedevo nulla, però sentivo la sua voce che mi confortava e quindi sentivo la voce di Rachele, la mia amica e durante quelle ore abbiamo continuato a chiacchierare, abbiamo chiesto insieme aiuto e lei mi dava la forza, mi diceva Veronica dai che prima o poi verranno a prenderci, non ti preoccupare, qualcuno verrà, non possiamo rimanere qui e in quei momenti io sentivo proprio la necessità di fare una preghiera e così in quel momento io e Rachele abbiamo cominciato a fare due preghiere, il Padre Nostro e l'Ave Maria e accanto a me avevo… io ero una semplice bambina, non capivo la gravità, non capivo quello che stava succedendo, vedevo tutto buio, capivo che era una situazione assolutamente strana che non mi era mai successa e però avevo la speranza che da lì uscivo prima o poi accanto… questo forse Veronica mi perdoni la interrompo solo un attimo, questa forse è stata davvero la servizio, cioè essere una bambina, nel senso che avete compreso che il mondo vi fosse crollato addosso, il mondo, il vostro mondo, la vostra scuola… io non avevo capito, non avevo capito nemmeno che ero finita sotto la scuola e che la scuola mi era crollata, per me era una cosa impossibile, c'è la scuola che per me rappresentava il posto più sicuro al mondo, era impossibile che era crollata, ho visto soltanto… Ha ragione, ho visto soltanto tanta polvere, non nemmeno vedevo, sentivo la polvere, l'odore del gas e il buio, accanto a me avevo un'altra mia amica perché nella prima elementare eravamo state spostate in tre e io sentivo praticamente l'unica cosa che riuscivo a fare era muovere la mia mano sinistra e accanto a me c'era Martina, un'altra mia amica che purtroppo non è riuscita a sopravvivere, io in quei momenti non avevo capito, ero solo una bambina quindi non avevo capito nemmeno la gravità, avevo la sua manina, mi ricordo che lei aveva queste manine impaffute, morbidissime e io con la mia mano mi allungavo e cercavo di toccarle il dito, la chiamavo ma non mi rispondeva, allora l'unica cosa che potevo fare perché avevo tutto il corpo bloccato era allungare la mia mano e stringerle questo dito, ho cercato di fare così, di cercare e dico ma forse così lei mi risponde e sentivo questo dito che poco a poco diventava sempre più freddo e ho pensato forse Martina sta dormendo, non ho capito quello che stava succedendo. Veronica si salva e noi tutto questo ve lo raccontiamo tra poco con una particolare attenzione che dobbiamo porre alla frase che lei ha detto, non era possibile che la scuola potesse catermi addosso perché oggi la battaglia di questa signora maestra perché è diventata una maestra Veronica è anche questa, scuole sicure così come devono essere. Ci fermiamo solo per un istante e torniamo con la nostra dottoressa laureata alla Luisa. Tenera. Veronica D'Ascenso aveva sette anni la mattina del terremoto di San Giuliano di Puglia, oggi è diventata maestra, si è laureata, ci sta facendo il grandissimo regalo di raccontarci quel suo giorno e poi tutto quello che è seguito. Insomma ad un certo punto sono arrivati i Vigili del Fuoco, vi hanno trovate. Dopo otto lunghissime ore di continui, noi abbiamo continuato in modo costante a chiedere aiuto, finalmente da quel buio ho rivisto la luce e per me quello spiraglio di luce significava a tornare alla vita, a riprendere, a vivere perché ovviamente dopo tutte quelle ore al buio con quell'odore del gas veramente non riuscivo più a respirare. Vedere la luce e sentire la voce di un adulto in quel momento mi ha rasserenato tanto, erano arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Veronica, noi le abbiamo istante per istante quelle scene negli occhi, sapesse quanto ha rasserenato noi. Quando le abbiamo sentiti proprio, quando è arrivata la notizia che c'era ancora vita sotto quelle macerie. Ma è vero che volevate, questa cosa la possono fare solo i bambini, no? Vi siete litigate? Sì, 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 sì. Davo otto lunghissime ore, non solo eravamo proprio stanchissime, ma abbiamo cominciato a litigare per chi doveva uscire prima, proprio in maniera ingenua. Io e ragazzo. I bambini sono questo, i bambini sono questo. Infatti i seccorridori si sono messi a ridere, dicono oh meno male, allora se hanno la forza di litigare vuol dire che stanno bene. Che sono ancora in forze. Allora sono seguiti, cure immediate, non c'erano i mezzi di trasporto, era il caos più totale intorno. Certo, è una situazione di forte emergenza. Le hanno fatto un'operazione d'urgenza, quantomeno per fermare il sangue che usciva dalla bocca. Sì, senza anestesia. Ha sofferto tanto, piccolina. E guardate, Veronica è la cugina del piccolo Luigi, a cui lei ha dedicato la sua tesi di laurea. Luigi, il bambino, figlio di quella mamma, nunziatina, che ebbe il coraggio di prendere la parola il giorno dei funerari davanti a Presidente Ciampi, davanti all'Italia tutta chiedendo sicurezza, scuole sicure. Lei l'ha saputo molto tempo dopo che questo cuginetto che lei adorava non ce l'avesse fatta. Sì, subito dopo, quando mi hanno portato in ospedale, ho passato un momento molto buio della mia vita, sia a livello fisico ma anche per tutto il resto. Sono stata proprio seguita, mi sono state vicino tantissime persone. In quel momento il mio stato fisico non era ancora pronto per sopportare un lutto del genere. Io e Luigi avevamo la stessa età, per me era veramente come un fratello e quindi quando ero in ospedale mia mamma continuava a dirmi che Luigi stava bene ed era in un altro ospedale. E io l'unica cosa che riuscivo a fare è perché avevo tutto il corpo bloccato per i vari interventi che avevo subito era quello di aprire con la mia mano sinistra il cassetto del mio comodino, avevo questi tre ovetti di cioccolato e ogni giorno prendevo un ovetto di cioccolato e lo mandavo tramite mia mamma a Luigi dicendo guarda mamma questo è per Luigi così lui sta meglio. Mi dicevano che lui era in un altro ospedale. Non si poteva dire tutto insieme Veronica, non si poteva dire tutto insieme. Allora saltiamo avanti e arriviamo fino ad oggi, uno la vede così per strada e mai immaginerebbe che sia quella bambina che abbiamo visto tirare fuori dalle macerie. La dottoressa ha in mano la sua tesi di laurea che noi mostriamo, didattica e pedagogia a servizio dei bambini con disturbo post-traumatico da stress, l'esperienza di San Giuliano. Signori se non lo scriveva lui, lei, chi avrebbe potuto, chi? E c'è poi una dedica all'interno, c'è una dedica che mostriamo prima di mostrarvi ancora qualcos'altro perché questi sono i raggi di sole. A mio cugino Luigi vivo sarà il ricordo, il suo ricordo nei miei passi. Sono ragazzi molisani questi. Il Molise dice, fa e realizza, questo me lo permetta. Allora senta, abbiamo la mamma collegata nella maniera in cui ci colleghiamo quando vogliamo che un messaggio arrivi alla diretta interessata. Guardiamo un po'. Quanto è bella, ma quanto è bella. Ciao Veronica, siamo orgogliosi di te. Il giorno della tua laurea è coinciso con la festa della Madonna del Rosario. Questo ha avuto un significato particolare per me. Ti auguro di essere sempre protetta dal suo amorevole sguardo. Ti auguro una vita serena, ricca di successi e di fortuna. Ti auguro di essere circondata da persone che sappiano amarti come noi ti amiamo. Ti auguro di essere una buona insegnante. Buona vita. continuo questa Madonna del Rosario. Ecco quella preghiera detta sotto le macerie e effettivamente la laurea è arrivata proprio il giorno preciso. Esatto. Ma c'è anche Zia Nunziatina. Lei l'ho chiamata proprio, ho detto Nunziatina mi fa sto regalo, per favore. Guardatela. Veronica Zia ti fa gli auguri per questo tuo primo traguardo. Sono sicura che sarai una bravissima maestra con quella sensibilità che ti caratterizza. Sono contenta e mi hai fatto emozionare per la dedica che hai voluto fare a Luigi. Ti auguro il meglio che la vita può offrirti. Un bacio Zia. Anche noi mandiamo un bacio a questa Zia. Senta, dottoressa, dottoressa d'Ascenso, allora lei fa la maestra, lei si vuole occupare di sicurezza. Questo sarà il suo secondo lavoro accanto a quello della maestra. Lo faccia dando voce a tutti quei bambini. Non glielo devo dire. Lei so che già lo farà, però lo farà. Quando arriva la ricorrenza del 31 ottobre è sempre difficile, però ogni anno è un anno avanti. No? È vero. È così? Sì. Io di solito evito di tornare a San Giuliano il giorno del 31 ottobre, proprio perché preferisco impegnarmi ogni giorno nel ricordo costante di questo brutto avvenimento, però io l'ho trasformato in qualcosa di positivo. Cioè questa tragedia, questo trauma che ho subito da bambina mi dà la forza ogni giorno di svegliarmi con il sorriso, di essere quindi positiva e empatica con le persone che ho di fronte. E soprattutto credo che una tragedia del genere non bisogna assolutamente dimenticarla. Bisogna parlarne proprio per evitare tragedie ed errori come quelli avvenuti a San Giuliano di Puglia. Ci tengo soprattutto a continuare a mantenere il ricordo dei miei compagni, di mio cugino, altrimenti sarebbe come morire in vano. Invece io voglio continuare a portare avanti i loro nomi e i loro ricordi, proprio perché loro sono gli angeli di San Giuliano, tutti li ricordano. Tutti ricordano queste tragedie. Bisogna adesso invece trasformare questa tragedia in qualcosa di positivo. Pensare che una cosa del genere non debba mai più succedere. Io non ho nient'altro da dire. Veronica D'Ascenso, ci fermiamo solo per un attimo. Grazie. Grazie. Il nostro, vostro, Paolo Borrometi. Perché è una condivisione proprio, eh? È così. Allora, Paolo Borrometi che ci racconta storie di donne coraggiose. Di donne coraggiose che hanno incontrato la mafia, le mafie. E che hanno fatto anche la storia. E che hanno fatto. Nel caso della... Della nostra. Della nostra Emanuela Loi. Emanuela Loi. Vi facciamo vedere questa fotografia. Emanuela è piccolina. Che bella. E sta facendo la prima comunione. Questa bambina diventerà l'agente di polizia nata a Cagliare e morta a Palermo, in Via D'Amelio, il 19 luglio del 1992. Lei era nella scorta di Paolo Borsellino, del giudice. Paolo Borsellino. Ringraziamo la sorella Claudia che ci ha dato questa fotografia. insieme ad Emanuela Loi e al giudice Paolo Borsellino c'erano Walter Edy Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limoli. Sono tutti morti a Via D'Amelio e prima di Via D'Amelio, 57 giorni prima, c'era stata la strage di Capaci, Paolo. Sì, ci sarebbe da dire tantissimo su questo. E allora, visto che li abbiamo citati, citiamo anche Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonino Montinara. Perché noi spesso abbiamo giustamente l'idea di citare questa foto meravigliosa che ha fatto la storia Paolo Borsellino e Giovanni Falcone per racchiuderli tutti. Ma io che ci vivo ogni giorno, fare l'uomo la donna, la gente ti scorta, è difficilissimo. E parlando di Emanuela Loi però, mi piacerebbe dire subito che Emanuela Loi ha fatto la storia non solo per la drammatica e tragica fine che ha avuto, ma anche e soprattutto perché è stata lei una delle prime donne a entrare in polizia. E questo va detto perché oggi è normale una donna in polizia, ma all'epoca, quando Emanuela Loi entrò in polizia, non era così scontato. E c'erano tantissimi pregiudizi che lei a poco a poco ha smontato, diventando un esempio anche per tanti colleghi e tanto da iniziare a fare prima quelle che erano le cosiddette vigilanze. Pensa Paola, lei fece la vigilanza a quello che oggi è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al nostro Presidente. A Villa Paino, poi a Tina Maisano Grassi e ha fatto anche da Piantone a quello che era uno dei boss più efferati e nel frattempo era stato arrestato, però lei aveva una missione che sentiva propria e la sentiva nel quotidiano. Lei voleva essere utile in quello che era un suo sogno, che è il suo sogno, parliamo al presente. Ecco, questa Paola è la cosa importante. 25 anni aveva questa ragazza, sembra incredibile che stiamo qui a raccontare tutta questa vita che si è svolta e chiusa solo in 25 anni. Ma siccome, come tu dici, la morte eterna a queste persone, soprattutto apre il varco alla loro grande lezione e al futuro che loro regalano ad ognuno di noi, a chi viene dopo o a chi li ha potuti conoscere. Ecco, il futuro che Emanuele Aloi ha regalato a tutti noi qual è? Ma allora, io ti devo dire, qualche mese fa in un comune della provincia di Bergamo incontrai una gente donna, appunto, e mi disse che lei era entrata in polizia proprio sulle orme di Emanuele Aloi. E allora questo è il futuro, è l'esempio. Solo che non ci rendiamo conto che ognuno di noi dovrebbe dare un esempio a noi stessi in primis e alle persone con cui ci approcciamo ogni giorno, tante, tantissime. Emanuele Aloi lo ha dato e lo continua a dare ogni giorno. Emanuele Aloi è vero che Paolo Borsellino, quando la vide così piccola e giovane, le disse cosa? Sì, le disse sostanzialmente. Lei era andata lì a dire, io le faccio da scorta. Devo proteggere lei. E fu Borsellino a dirle, ma sono io che devo proteggere lei. Però lo disse, raccontiamo anche questa visione, perché se no potrebbe sembrare come una visione maschilista. Invece era tutt'altro, era proprio Paolo Borsellino. Aveva una visione paterna anche nei confronti dei ragazzi, perché tali erano della sua scorta. E quindi è questo. Noi ricordiamo sempre le parole della vedova Schifani al funerale di suo marito, in quel caso appunto delle vittime della strage di Capaci. Ma è questo quello che dobbiamo comprendere. Sono uomini, sono donne che hanno i loro sogni. Emanuele Aloi aveva e ha tantissimi sogni. Uno di questi sogni era dimostrare a Paolo Borsellino che era lei che poteva fare da scorta al grande dottor Borsellino. E l'ha fatto, l'ha fatto fino alla fine. Claudia Aloi, la sorella di Emanuele, ha raccontato tanta parte della storia di questa meravigliosa ragazza, la nostra Antonella Ferrara. Siamo a Sestu, è un paese in provincia di Cagliari. Quindi, Claudia gira le scuole. In ogni manifestazione chieda che venga ricordata sua sorella con tutte le persone che quel giorno erano in via d'Amelio. Una sorella che aveva fatto con lei il concorso per entrare in polizia, ma non sveliamo di più. Claudia Aloi. Aveva 24 anni. Borsellino, quando la vide per la prima volta, le disse «Ma tu devi scortare me? Sarò io che devo scortare te!» Emanuela era una ragazza molto graziosa. Era una ragazza gentile, con una gran voglia di vivere. Non voleva fare la poliziotta. Emanuela voleva fare la maestra. Ci siamo diplomatte, tutte e due, alle magistrali. Era la mia aspirazione fare la poliziotta. Emanuela è venuta a farmi compagnia per il concorso. E il concorso lo superò con il massimo dei voti. Fu mandata a Palermo. Dopo la strage di Falcone, fu introdotta all'ufficio scorte. Noi eravamo molto, molto preoccupati. Però lei ci rasserenava. Ci diceva «Non preoccupatevi perché io faccio parte delle scorte, però scorto personaggi non pericolosi». Noi familiari abbiamo appreso della notizia della morte di mia sorella dalla televisione. Il telegiornale disse «Adesso vi diciamo i nomi. C'è anche una ragazza, una donna». In quel momento l'abbiamo capito. Neanche il tempo di dire tutto il nome è «Ma». E siamo svenuti. Siamo caduti per terra. I miei genitori hanno affrontato questo dolore con forza. ci ha aiutato molto la fede. Mio padre, subito dopo la morte della figlia, aveva questa febbre. Ma questa febbre era dovuta al dispiacere. Il dolore a lui l'ha consumato piano piano e è durato cinque anni. Mia sorella per me non è morta. Tutti la ricordano. Io vado spesso nelle scuole, ovunque mi chiamano, per parlare della sua vita. Non solo per non dimenticare, ma vado anche per scuotere le coscienze. «Sesto, il mio paese, ha intitolato a mia sorella la strada dove abitiamo». Noi, familiari, non conserviamo dei sentimenti di odio verso gli assassini, ma bensì un desiderio di giustizia, un desiderio di legalità, un desiderio di memoria. Paolo, ovviamente questo tuo racconto è un racconto che ti vede coinvolto in primissima persona. Con te vivono uomini che scortano la tua vita e proteggono la tua vita. E quando tu fai parte di una scorta, tendi, o tendeva in questo caso, ma noi lo ricordiamo, una donna, una ragazza nel 1992. Mettete indietro l'orologio nel tempo. Non solo. Non lo dici in giro ai tuoi genitori, non li vuoi far preoccupare. Anche perché, contestualizziamolo per un momento, siamo all'indomani del 23 maggio del 1992. Una delle stragi più efferate che si sono mai viste nel nostro paese. Chilometri di autostrada che saltano in aria. Mi spiace dirlo. Brandelli di corpi che vengono ritrovate sui alberi, a chilometri di distanza. Va detto, però, perché le persone debbono anche comprendere che cosa significava. Paolo Borsellino sapeva che il prossimo sarebbe stato lui. Lo Stato, purtroppo, non è riuscito a salvarlo. Gli uomini e le donne che erano con lui sapevano che Paolo Borsellino, la persona che scortavano, sarebbe stato il prossimo obiettivo di Cosa Nostra, di quella feroce Cosa Nostra. Quindi è una scelta di persone che non volevano diventare eroi, ma che volevano ogni giorno onorare la loro divisa e il nostro paese. Ognuno di noi. E per questo che è importante spiegare alle persone che le vedono come eroi, la via intitolata è giustissimo. Però era una ragazza che ha completamente vissuto per il nostro paese e per i nostri sogni. Pensa ai suoi genitori. Io per un attimo fai pensare ai miei genitori. E quindi, ecco perché un attimo mi sono... Durante le parole straordinarie di una donna forte, che è riuscita, sua sorella Claudia, che è riuscita a trasformare il dolore in forza. Che bella questa foto. Però bisogna sottolineare questo. Quando c'è una missione, tu tendi comunque a proteggere i tuoi affetti. Tanto è vero che lei non aveva detto ai suoi genitori con chi stesse. Questa è un'altra delle cose da sottolineare. Non per mancanza di coraggio, ma invece per sottolineare l'importanza, la forza, l'intelligenza di una donna come Emanuela Loi. Di una donna che voleva fare la maestra. E che è talmente brava che, facendo anche lei... Quante volte con le nostre sorelle e i nostri fratelli facciamo le cose insieme, no? Facendo lei concorso, la sorella non entra in polizia e lei sì. E se la vedi oggi, e fin da allora, da allora anzi, è un destino tragicamente segnato, perché lei ha perso la vita, ma ha conservato per tutti quel senso di forza, e non sono parole retoriche, sia chiaro, e di coraggio e di dignità, di libertà di un paese, rispetto a chi voleva toglierla questa dignità. Esatto, non solo. Ma poi l'ora solare, il raggio di sole, lei oggi fa la maestra, fa l'insegnante, insegna a ognuno di noi, sua sorella va nelle scuole, insegna ai ragazzi, alle nuove generazioni, dà nuovi stimoli, fa comprendere che la vita, sì, per l'amor del cielo, sono i social, sono le distrazioni del quotidiano, ma sono anche questi esempi straordinari che ci fanno comprendere come la vita vada vissuta, vada vissuta sognando esattamente come Emanuele Loi. Paolo, nelle motivazioni e medaglie d'oro al valore civile Emanuele Loi, nella motivazione dell'assegnazione si legge tra l'altro, pur consapevole dei gravi rischi a cui si esponeva a causa della recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle forze di polizia, assolveva il proprio compito con grande coraggio, assoluta dedizione al dovere. Gli uomini che ti accompagnano diventano famiglia, siete un corpo unico che si muove. Ti rispondo con le parole di Agnese Borsellino, la moglie di Paolo Borsellino. Nella strage di Via D'Amelio un agente rimase in vita, addirittura in un primo momento venne anche indagato. Lei diede la possibilità all'agente sopravvissuto di vivere la famiglia con loro. Divenne un po' come il quarto figlio, oltre a Lucia, oltre a Fiammette, oltre a Manfredi. Penso che questo esempio di Agnese Borsellino, la moglie di Paolo, sia la migliore risposta alla tua domanda. Credo che non servano altre parole, né siamo noi al secondo anno dell'Ora Solare a dovervi dire che però quando questi signori li vediamo nei corridoi, intanto sappiamo che è arrivato Paolo. e li guardiamo con infinita amorevole, immensa ammirazione e stima. Perché loro con Paolo Borrometi che vive sotto scorta sono una persona sola. Grazie Paolo. Ci torniamo solo per un attimo. Lasciate la finestra spalancata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' tornato a trovarci e siamo molto contenti di questa cosa. Fra Emiliano Antenucci, bentornato. Facci il prego. Dell'Ordine dei Frati Minori Capuccini, nominato da Papa Francesco, missionario della misericordia in occasione del Giubileo straordinario della misericordia. Ben trovato. non ci vedevamo da un po'. Eh sì. Non ci vedevamo da un po'. Allora, Fra Emiliano è autore di diversi libri che sono nati ascoltando le parole e gli insegnamenti di Papa Francesco. Non sparlare degli altri che Papa Francesco ha distribuito in tanti luoghi. Chi calunnia uccide e l'ultimo libro scritto insieme a Donaldo Bonaiuto, in uscita, siamo a ottobre insomma, siamo arrivati, Invidia, veleno, mortale. Le edizioni sono sempre e fatali. Le citiamo perché bisogna sempre citare l'editore. Sparlare, calunnia e invidia sono tre mali tre mali legati all'umanità, legati al nostro essere uomini. ma sono tre mali pesanti. Papa Francesco questo l'ha sottolineato. E' proprio dal silenzio, perché se uno è esperto del silenzio deve essere esperto pure delle parole. Ogni parola deve passare al setaccio di Socrate. Se una parola, bisogna chiedersi, se una parola è per il bene dell'altro, se è utile, e poi soprattutto se è vera. Perché ad esempio, tipo la calunnia è un cancro diabolico, così chiama il Papa la calunnia, perché mors tua vita mea. Quindi molte volte si mettono delle calunnie agli altri per fare carriera oppure per nascondere il proprio fango che uno ha dentro. Quindi è un insultare l'altro, insultare insinuando. Questa è la cosa più pericolosa, a tutti gli effetti. Poi della Madonna del silenzio parliamo, perché insomma noi abbiamo anche delle immagini, delle fotografie conservate nel cuore, ma di questo cerchiamo di parlare con calma. Andiamo con ordine. Allora, invidia, un veleno mortale. Papa Francesco lo definisce così. L'Angelus è del 10 giugno del 2018 e noi lo ascoltiamo con tutta l'attenzione che ci vuole, più che mai in questo caso. Può capitare che una forte invidia per la bontà o per le opere buone di una persona possa spingere ad accusarla falsamente. Qui c'è un vero bellenno mortale, la malizia con cui in modo premeditato si vuole distruggere la buona fama dell'altro. Dio ci liberi di questa terribile tentazione e se esaminando la nostra coscienza ci accorciamo che questa erva cattiva sta germogliando dentro di noi, andiamo subito a confessarlo nel sacramento della penitenza prima che si sviluppi e produca i suoi effetti malvagi. che sono inguaribili. Siate attenti voi, siate attenti perché questo atteggiamento distrugge le famiglie, le amicizie, le comunità e perfino la società. E queste sono le parole di Papa Francesco, distrugge le famiglie, le amicizie, le comunità e perfino la società. È l'equivalente di una grande esplosione anche se non stiamo, non vediamo cadere fisicamente i pezzi, però è così. Allora, Framiliano, come si cura? Ma l'invidia, uso questo termine, rossicare per la felicità di un altro e abortire del sogno che Dio ha su un altro. L'invidia e non vedo l'altro. Invidia significa proprio questo e non vedo anche me stesso. La storiella della rana è il buo. La rana vuole diventare come il buo e poi non riesce ad essere come il buo e poi scoppia perché l'invidioso scoppia di invidia perché non è come l'altro, perché lui sì e io no e quindi è triste. I padri della Chiesa danno un rimedio all'invidia e il ringraziamento e la gratitudine. Ecco, come Francescano il cantare il laudato sì per i doni che il Signore fa nell'altro. Anzi, San Francesco nell'ammunizione ai frati dice che l'invidioso è il ladro di Dio. Se a ognuno Dio ha dato dei doni, dei talenti, dei carismi, quando io sono invidioso, sono invidioso del bene che Dio fa nell'altro e quindi sono il ladro di Dio. Quindi Francesco fa... Ladro di Dio. Sì, sono il ladro di Dio. Fa una lettura molto forte e molto spirituale proprio sul peccato di invidia che è un pensiero malvagio. Che è un pensiero... È un pensiero malvagio, sì, non si può dire... A volte c'è chi pensa che sia un sentimento quasi naturale. A volte senti dire della gente io non vorrei essere invidioso ma non ci riesco a non essere invidioso. Veramente, delle volte delle persone ti fanno anche tra virgolette un po' tenerezza perché ne vedi la natura forse... Anzi, sicuramente buona però poi si inciampa. È come inciampare proprio camminando sul sasso dell'invidia. Io uso un'ironia io non sono invidioso di chi è invidioso di me. Quindi uso quest'ironia perché alla fine siamo tutti abbiamo tutti due popoli quindi ci attiriamo ci attiriamo l'amore e l'odio quindi quando vediamo delle persone intorno a noi magari che sono invidiose perché noi otteniamo un risultato un successo bisogna aumentare la preghiera e impegnarsi ancora di più quindi rispondere al male con il bene benedire chi ci maledice questo ci insegna la parola di Dio perché il bene è un'arma potente è un'arma potente è una bomba e poi la bontà di Sarma il sorriso di Sarma la gentilezza di Sarma la tenerezza di Sarma questa è la rivoluzione contro gli invidiosi è vero allora nonostante parli e quando parla parla benissimo Fra Emiliano la Vergine del Silenzio allora l'incontro con Papa Francesco questo progetto di costruire un santuario nella tua meravigliosa terra da Abruzzo tu sei un Abruzzo che cammina Fra Emiliano questo lo siamo detto anche altre volte che tu lo vedi è proprio l'Abruzzo che cammina l'Abruzzo che arriva e questo fa di te una persona l'Abruzzo è forte e gentile l'Abruzzo forte e gentile la fortezza del Gran Sasso la gentilezza della Maiella e la chiarezza del mare e la chiarezza del mare allora questa bellissima icona è l'icona della Madonna del Silenzio a che punto siamo con tutto questo lavoro? Siamo vicino ecco il Papa ha scritto ecco al mio superiore al mio provinciale chiedendo esplicitamente lui sarebbe bello avere un luogo un santuario per dare culto pubblico alla Madonna del Silenzio ecco una cosa bella nella Chiesa non esiste il titolo Maria Vergine del Silenzio e la proposta ecco che ho fatto al Santo Padre è di fare un decreto ecco in futuro addirittura di fare una memoria liturgica a Maria Vergine del Silenzio ricordare il silenzio che è la vera rivoluzione la vera riforma è la vera profezia in un mondo pieno di rumore di chiacchiere e di parole certo e chissà quanto quanto silenzio nei silenzi di Maria no? il Papa è devotissimo l'ha messo nella sua scrivania nella sua camera c'è la Vergine del Silenzio che cosa ci insegna la Vergine del Silenzio? innanzitutto a fermarci questa mano che ci dice fermati dove corri il cielo è dentro di te e anche fuori di te perché noi siamo presi da tante cose e ci agitiamo ecco Padre Pio ci ha fatto conoscere lui diceva preghi e spero non agitarti l'agitazione non giova a nulla e Dio è buono e misericordioso ascolterà le tue preghiere quindi fermarsi in un mondo agitato turbolento perché il cielo è dentro di te che è il santuario più grande e più importante della terra il nostro cuore è anche fuori di te e poi il cammino del silenzio è un po' l'abbassamento delle potenze dell'anima del volere dell'avere dell'essere che ti conduce al cielo la definizione più bella della Vergine del Silenzio non l'ha dato un mariologo ma una bambina di nove anni Sofia che guardando la Vergine del Silenzio ha detto alla mamma dice se la Madonna ci deve dire qualcosa significa che il figlio se la Madonna ci chiede di fare silenzio significa che il figlio ci deve dire qualcosa questa l'ha detto una bambina di nove anni di tali vedete com'è è bellissimo come si riesce la forza dei bambini a sintetizzare sintetizzare perché c'è la purezza no? dietro c'è la purezza e quindi la purezza fa vedere tutto tutto chiaro voi immaginate un bambino che è diventato grande ma quando un bambino fa la comunione no? arrivano i regali e quindi poi il bambino cresce e vende i regali d'oro della comunione della cresima per comprare una Bibbia e donarla ai poveri e questa è la storia questo bambino si chiama Fra Emiliano Antenucci è una cosa bellissima perché dice anche lui ha avuto un inizio e come? allora una storia di vocazione iniziata proprio da ragazzino 14 anni 14 anni un viaggio ad Assisi quando uno conosce San Francesco perde la testa è vero è vero è vero perde la testa e quindi tu arrivi ad Assisi il santo della libertà dell'essenzialità del vivere alla lettera il Vangelo allora conoscendo San Francesco non ti interessa più della vanità del mondo quindi la prima cosa che ho fatto ho venduto i gioielli che ci avevo che erano regali della comunione della cresima mia madre l'ha scoperto poco tempo fa leggendo un articolo su questo perché cosa ti ha detto mamma? è perché vedeva i cofanetti sempre vuoti e dice come mai non ci sono più i regali della comunione della cresima cosa è successo? qualche topolino chi è passato di qua? invece ecco dopo il viaggio ad Assisi ho venduto tutti questi semplici gioielli regali ho comprato una bibbia e poi con il resto l'ho donato ai poveri proprio perché Francesco ti richiama all'essenzialità e soprattutto alla libertà Francesco è il santo della libertà come Papa Francesco un uomo libero libero dalle cose dalle strutture dai ruoli da ogni cosa ecco perché voleva i frati che volavano come le allodole del cielo perché essere liberi è automatico non hai catene non sei legato a niente a nessuno le catene sono nel cuore i muri sono nella mente è Fremigliano Antenucci questo già voi lo conoscete però noi abbiamo piacere di averlo ancora con noi poi Assisi mi ha fatto anche un altro regalo sì l'ha fatto anche a noi perché sei diventato frate guardavo sempre una giornalista che pregava sulla tomba di San Francesco una certa Paola Saluzzi non so se la conosci non è in scaletta allora volevo conoscerla poi ecco un anno fa due anni fa grazie alla vita indiretta grazie a Padre Pio ecco in trasmissione ci siamo conosciuti e poi ci siamo trovati a TV2 siamo diventati amici questo non era previsto che lo dicesse queste cose mi fanno riuscire assolutamente un regalo della Madonna di San Francesco e di Padre Pio io non sono un regalo io sono solo sono solo un tramite felicissimo tramite attenzione un tramite per perché queste narrazioni entrino dentro le vostre case perché quando parliamo di ora solare io penso alla tua mamma penso alla tua famiglia alla tua famiglia che come hai reagito quando ha saputo che tu avessi deciso di diventare frate mia madre era contenta mio padre di meno un pochino meno poi come mi ha visto felice mi ha detto sei felice tu allora sono felice anche io perché la felicità più grande per un genitore è vedere il proprio figlio felice è questo lo spicchio di luce che noi cerchiamo nel nostro di portare tutti i giorni nelle vostre case ma è questo lo spicchio di luce che dobbiamo cercare in tutte le situazioni della vita Framiniano anche quando le cose sembrano andare male o sono difficili dobbiamo sempre sperare che ci sia un varco aperto a me piace la montagna quando si cammina in montagna si vedono delle crepe e in mezzo alle crepe ci nascono i fiori più belli così nella nostra vita quando ci sono delle crepe delle ferite delle sofferenze nascono i fiori più belli dietro la croce c'è la luce c'è tanta luce dietro la sofferenza ci sono fiori che nascono continuamente bisogna coglierli dietro le crepe della nostra vita tutti i fiori che Dio dona Fra Emiliano Antenucci è lui e io sono contentissima che sia tornato a trovarci e riaccendiamo la nostra finestra dell'ora solare ringraziando Fra Emiliano tutti con noi perché tra poco l'appuntamento con la recita della coroncina della Divina Misericordia e poi siamo noi e poi alle ore 14 di domani bisogna fare tutto il giro dell'orologio lasciate le finestre aperte e spalancate perché torna l'ora solare con tutto il nostro affetto grazie 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 caro grazie